Scusatemi, 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 scusatemi. Scusami, sto andando dalla mia ragazza. Ma c'è la fila. Tutto a posto? Sì. Vado dalla mia ragazza. La ragazza. Scusatemi. Oh, ma sei in ritardo. Guarda, i cinque minuti sono passati a un quarto d'ora. Non hai capito? Non mi partiva il motorino. Eh, va bene. Oh, l'hai visto che c'è lì dietro? Sì, me lo dici dopo, toccandovi, facciare il video. No, 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 no. Quattro dei biglietti? Prego. Vabbè, ma è uno scherzo. Il cinema non scherza mai. Dai avanti che ci rarrenta della fila. Mia, mia! Vabbè, io allora vado a prendere i popcorn. Ecco qua, popcorn e coca. Ma lei è? Sì. So, dieci euro. Dieci euro? Sì. Beh, che volevo fare? Ah, sì, sì. No, no. Ma che ruota, ci ha rubato nemmeno? Sì. Vieni dirla. Salve. Salve. Grazie. Sono sulla sinistra. Arrivederci, buonasera. Ciao. Ciao. Info dal corridoio a destra. Tutto a posto? Eh? Camminare, su. Buonasera. Buonasera. Non male, eh? Infatti, non male. No, dicevo, dicevo il film, non male. Il film, sì, no. Bella scelta. La scelta, io lo vedo con Luca, io. Ecco qua. Oh, mi scusa. Ah, c'è Luca. Ah, buonasera. C'è Luca. C'è Luca. Buonasera. Biglietti? Prego. Scusi. Scusi. Può spiegare cosa sta succedendo? Niente. Siamo tornati. Popcorn? Signorina, mi raccomando al cinema, niente a cellulare. No, signora, scusi. Buonasera. Vi preghiamo di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo. Il film sta per cominciare. Mi scusi. Che mi sono perso? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. Blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!